Barney cercava ancora di dimostrare che le cose migliori possono succedere dopo le due. Coraggio, Lily! Quante donne hanno ricevuto una serenata personale da un Elvis coreato! D'accordo, Barney, ci hai provato. È stato bello, ma noi andiamo. No! Non andate! Ascolta, non siamo ancora leggendari. Siamo arrivati solo a Legge. Ci mancano ancora Jen, Da e... Va bene, se siamo arrivati solo a Legge, io dico che possiamo proseguire con un bel Torniamo a Casa. Wow! Sei stata geniale! Battuto per una sillaba! No, 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 no! Bevi, bevi, bevi! Non Antartene! Facciamo un ultimo ballo, eh? Sto parlando seriamente! Ormai ti conosco. Barney aveva ragione. La notte è leggendaria. E quella divenne la notte in cui Lily prese a calci Elvis coreano negli attributi. Ehi, vi ricordate quando Lily ha preso a calci negli attributi Elvis coreano?